Il problema dei parcheggi a Fano è uno dei nodi da sciogliere. Quali sono le vostre proposte? Il problema dei parcheggi a nostro avviso è un tema cruciale sia per chi lavora in centro storico sia per chi risiede in centro storico. Questo naturalmente nasce anche purtroppo a causa di aree che sono state tolte per l'area parcheggio, come ad esempio l'ex Agit, piuttosto che Piazza Andrea Costa. E' chiaro che serve un nuovo multipiano a servizio del centro storico e della zona mare che deve essere condiviso sia col tavolo economico sia con i residenti e quindi con i cittadini. Però noi pensiamo che ci siano anche azioni immediate come ad esempio permettere nelle zone blu, negli stali blu che dal lunedì al venerdì sono quasi sempre liberi, permettere ai residenti e agli operatori commerciali di poter parcheggiare in centro storico. Quindi con un abbonamento naturalmente in fase sperimentale pensiamo che questo sia realizzabile proprio nel primo anno di governo. E' nostra intenzione comunque incentivare sia i percorsi ciclopedonali in maniera protetti con un nuovo piano urbano del traffico nei primi 100 giorni. Daremo l'incarico perché è importante appunto privilegiare la mobilità sostenibile e quindi anche la bicicletta. Perché a Fano ci sono tante piste ciclabili purtroppo sconnesse o che sono pericolose e quindi non sono piste ciclabili. Ecco quindi sono temi importanti che noi poniamo all'attenzione dei cittadini perché noi vogliamo una città più vivibile. Per il parcheggio multipiano alla caserma che cosa ne pensa? Sì, Marchegiani ha proposto due piani sotterranei sotto la caserma. È chiaro che significherebbe innanzitutto precludere il parcheggio attuale per almeno un anno o due anni per i lavori. Inoltre sono lavori molto costosi, sopra 10 milioni di euro che dovrebbero essere ripagati dagli utenti con parcheggi a pagamento naturalmente, sempre che non si trovi qualcosa lì sotto. Noi crediamo piuttosto che fare un parcheggio sotterraneo alla caserma, invece è molto meglio un multipiano che costa sicuramente di meno e alla caserma far sì che le persone, cioè più che le persone, i parcheggi possano ruotare, perché molto spesso persone parcheggiano anche per settimane o addirittura mesi alla caserma. Questo non dovrà essere più consentito.